Siamo in compagnia di Maurizio Dura, Maurizio lo conosciamo un po' tutti qui a TSN, è un volto noto della provincia perché di fatto Maurizio è l'anima della palestra sociale della piastra ed è da sempre impegnato in ambito sociale. Oggi con Maurizio, innanzitutto buonasera Maurizio, parleremo, cercheremo quantomeno di focalizzare un argomento in particolare, ossia nell'ambito dello sport i limiti che esistono e soprattutto una provocazione, il vero handicap in ambito sportivo lo creano le istituzioni sportive stesse. Tu hai una tua esperienza da raccontarci, partiamo da un fatto. Tempo fa un ragazzino che seguivi nella tua palestra ti fece una domanda, cosa ti chiese? Un ragazzino di 11 anni più o meno mi fa una domanda, maestro volevo chiederti una cosa, ma con il judo riesco a guadagnare per mantenere la mia famiglia? E così, judo sport per poveri si dice, si è sempre detto per correttezza verso il ragazzo, gli ho detto guarda per guadagnare devi fare altri sport, calcio, quindi sono sport. E' rimasto molto molto deluso e allora mi fa, ma insomma, allora gli sport non sono tutti uguali. Lo sport serve ed ha una finalità innanzitutto inclusiva, soprattutto nel tuo ambito, ma soprattutto serve anche a recuperare tanti ragazzi dalla strada. Volevo anche girare al presidente del CONI, dottor Malagò, lo sport toglie questi ragazzi dalla strada, mi sono fatto, o se non hanno disponibilità economiche rientrano in strada, purtroppo è un interrogativo che bisogna farsi. Questo discorso vale anche per gli sport paralimpici, se proprio vogliamo, se proprio è necessario creare un discrimine tra uno sport e l'altro, allora abbiamo parlato degli sport e dei cosiddetti normodotati, anche se odio questo aggettivo, parliamo allora degli sport paralimpici. E questo tu lo vivi sulla tua pelle, hai incontrato delle difficoltà. Una domanda, questa volta al presidente del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico, scusatemi, ma se il judo è un'attività olimpica, ma perché il judo in Italia non ha il judo italiano paralimpico, non ha le stesse opportunità di qualsiasi altro sport paralimpico? Questo me lo chiedono i ragazzi, me lo chiedono, ma scusate, ma io mi impegno, faccio le gare, posso vincere medaglie, ma posso ambire a un gruppo sportivo militare? Io non accuso nessuno, ma dico al presidente paralimpico e al presidente olimpico, che tra l'altro conosco, ma ci vogliamo mettere a tavolina e dire, ragazzi vogliamo fare un resocondo e vederci se possiamo migliorare qualcosa? Ecco, Maurizio. Grazie, Maurizio. Speriamo di aver, quantomeno, lanciato un semino e che questa terra, in cui questo semino, speriamo, atterri sia una terra fertile, che ci arrivi qualche risposta, quantomeno di aver lanciato una provocazione. Grazie ancora. Grazie a voi. In bocca al lupo con tutto ciò che fai per la palestra sociale della Piastra. Grazie.